This is in the end, after 80 years for you, first of five wars, good but the last three notes. Potrei andare avanti parafrasando la canzone inserita in una storia Instagram da Aldo Dolcetti, collaboratore di Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri, dopo 8 anni, ha chiuso la sua esperienza con la Juventus e credo questo punto in maniera definitiva. Non ritengo che ci possa essere il terzo mandato, poi Calcio ci ha sempre raccontato cose completamente diverse e strane. Con orgoglio sempre di più a indossare il vessillo, perché amare la Juventus è un percorso prioritario, unico e straordinario. Nel bene e nel male. Partiamo affermando una cosa che sia chiara e delineata. Massimiliano Allegri, se avessimo avuto una società forte, dopo Maccabi e Monza, sarebbe stato esonerato. L'esonero è più che corretto ed è giusto cercare di trovare qualche soluzione per ritrovare quella tavica grandezza andata smarrita. Gli ultimi tre anni sono stati una sorta di diatribe spaventose, dove persino presunti, ottali, tifosi, bianconeri, si auspicavano le sconfitte della propria squadra, affinché Allegri potesse essere sempre di più mortificato e distrutto. Io nella mia vita sono sempre stato abituato a non banchentare sulle spoglie del defunto. La cosa che più mi inquieta è che il tifoso della Juventus abbia celebrato maggiormente l'esonero del tecnico piuttosto di un titolo. Questa è una mentalità che assomiglia in maniera nefasta ai tifosi del Napoli e ai tifosi di quell'Inter che combinava danni a destra e manca tra richieste di allenatori mandati via, motorini gettati sulle tribune, improvvisazione societaria. I primi cinque anni di Allegri io non li dimenticherò mai, lo ringrazierò sempre perché ha portato la Juventus a un passo da quella grandezza europea che sembra sempre di più utopica e realista in confronto ai nostri sogni, alle nostre ambizioni. Gli ultimi tre anni sono stati un disastro, tra improvvisazioni societarie, un incicandire ancora di più la sua condotta parsimoniosa è basata su non prenderle, su lotte ideologiche più che sulla ricerca di ritrovare quella grandezza. Massimilano in Allegri gli ultimi tre anni onestamente ha dato poco, è una squadra che non è cresciuta sotto l'aspetto dei risultati tant'è che i punti sono andati incalando nei tre anni, non è cresciuta sull'espressione di un gioco, non è cresciuta praticamente in nulla c'è stato l'inserimento di qualche giovane perché abbiamo giocato con Hilling, con Hildiz, aveva avuto spazio Miretti ci sono state anche delle cose che non hanno visto così un epilogo tragico come dipinto da tanti tifosi ma onestamente l'apporto di Allegri nel suo ritorno è stato paragonabile a quello dei Trapattoni Trapattoni stravincente nella prima era, nella seconda era ha fatto molto male con una piccola differenza che ha portato a casa una Coppa UEFA i risultati si distinguono tra Coppa UEFA, Trapattoni e all'epoca la Coppa UEFA era una signora competizione che la Coppa Italia Allegri è giusto mandarlo via c'è bisogno di liberarsi da questa maledetta divisione tra allegriani e non allegriani io leggo i commenti dei non allegriani che insultano, offendono gli allegriani e veramente stiamo riducendoci al peggio, al becero, più becero possibile Allegri mi ha profondamente deluso, io ero uno dei fautori del suo ritorno perché ritenevo che il suo pragmatismo e il suo non guardare in faccia la volontà del popolo potesse essere utile per accorciare i tempi invece non si è rivelato così non sono arrivati i risultati sono arrivate una serie di tragedie, tremebonde, società distrutta CD ha cambiato, penalizzazioni, partenza di grandi giocatori giocatori che scommettono e vengono squalificati il giocatore più rappresentativo per il brand e dal punto di vista tecnico che si fa trovare dopato è successo qualcosa di incredibile qualcosa che la Juventus è stata mortificata e mortificante credo che Allegri andasse cacciato dopo le tragedie quelle grandi tragedie che hanno segnato la storia del calcio come Maccabi, come Monza che hanno fatto veramente del male quella è stata la pagina più triste per un tifoso juventino Maccabi, Juve e Monza e Juve rimarranno in eterno le pagine più brutte sono riuscite anche ad andare oltre Juventus-Benevento che sembrava l'epilogo ora i raffronti tra Pillo e Allegri sono sciocchi Pillo aveva una squadra con Dybala, Delecht, Cristiano Ronaldo una squadra di qualità decisamente superiore Andrea Pillo è un allenatore che ha approfittato del delirio di onnipotenza e dell'improvvisazione dell'ultima fase di Andrea Agnelli che ha portato anche a questi risultati Allegri comunque non verrà mai rinnegato da parte mia quindi il raffronto non va fatto è sciocco e significa non conoscere le dinamiche del calcio sicuramente in proporzione all'esperienza all'ingaggio e alla qualità Andrea Pillo ha fatto meglio perché la carriera di Pillo all'inizio comunque qualcosa l'ha portato a casa e questo è corretto per onestà intellettuale affermarlo penso che la pagina del litigio con Baciacoro hanno fatto pace qualcuno dice che sia dovuto affinché ad Allegri venissero riconosciuti gli emolumenti anche per il prossimo anno qualcuno dice che si sia arrivato a un compromesso per evitare gravi regali la realtà la conoscono gli diretti interpreti e a me personalmente non tange più di tanto credo che Allegri però con lo sfogo di Baciaco abbia toccato un po' il fondo questo però si è tolto uno sfizio fatti suoi la reputazione è sua ancora sento la reputazione della Juventus intaccata non sento mai che nessuno si lamenta perché la società non interviene contro gli anti-juventini contro gli arbitraggi contro il VAR contro le situazioni politiche la Roma e Napoli ma i partiti dell'inchiesta col trattamento della FGC io lì non sento nessun tifoso che si scandalizza nessun tifoso che si scandalizza per Elkan lì l'importante l'unica cosa che ci deve far vergognare è questo io credo che siamo nel finto moralismo di quando un re cade allora tutti sono pronti ragazzi noi la storia del popolo la conosciamo politici de Craxi è molto rico Craxi ma non è che voglio fare una valutazione perché è l'unico che pensavo dell'esilio però non è per questo quando Craxi comandava per anni ah grande Craxi poi monetine ladro corrottore imbroglione poi la rivalutazione storica è sempre così il nostro paese il nostro paese vive in queste tre fasi quando uno potente cade si gode tutti insieme perché c'è forte vendetta sociale e poi si fanno le valutazioni a distanza di tempo allegri giusto che venisse cacciato è stato un disastro e lo ripetisco non vorrei che ancora una volta questa situazione non facesse capire ai tifosi qual è il vero problema io ho visto delle cose che non mi sono piaciute di gestione societaria sono molto preoccupato ma ne racconterò nel video da domani questo è solo per dire che io ringrazierò sempre per i 5 anni allegri comunque ha chiuso una coppita di 3 anni per lo meno non ha finito con zero titoli citando uno dei suoi emoli Murigno probabilmente il calcio è allegri sorpassato per fare una squadra competitiva nelle 38 partite posso starci probabilmente Allegri si è giocato il proseguimento di una carriera ad alto livello per una pensione d'oro e posso starci la Juventus ha bisogno di qualcun altro affinché si possa credere di ritornare in tempi più rapidi di quanto venga preventivato vincitrice ed è giusto io spero che i tifosi si liberino anche da questa mentalità provinciale di festeggiare un allenatore che viene esonerato e di fare offese e insulte agli altri perché siamo veramente sul sottobosco culturale speriamo vivamente che inizi la nuova era io sono il Juventino chi verrà si dice tengo molto il 99% quindi sarà così chi verrà avrà il mio massimo supporto la mia massima stima il mio massimo elogio io sono il Juventino abbiamo perso veramente un personaggio importante come Del Piero per citarne uno e siamo riusciti ad andare avanti figuriamoci per un allenatore l'unica cosa che le sensazioni che mi traspirano che ritengo arrivare a me non sono proprio felici ma ne discuteremo da domani in poi oggi è la giornata di salutare Allegri un saluto a Max sperando che l'anno prossimo possa insultarlo molto perché vuol dire che vinceremo ecco io sono uno che un vecchio tifoso che gioisce solo quando vince e gioisce in qualunque modo si vinca l'importante è vincere so di rappresentare una parte di tifo non da playstation non da popolo medio ma sono ancora un vecchio tifoso sarà l'età sarà la vecchiaia che incombe che vinceremo che vinceremo Grazie a tutti.